E' bella a tutti ragazzi e raga qui è Trajector e bentornati su The Escapist Ragazzi sono gasatissimo perchè nell'ultimo video avete lasciato un sacco di commenti sul quale vi piace questa serie E non potevo non fare un secondo seguito Ragazzi continuate a darmi consigli E mi avete consigliato di nascondere gli oggetti illegali come il legno e nel water Quindi ho nascosto tutto nel water e andiamo a mangiare perchè dobbiamo andare a prendere altre forchette Perchè sapete qual è il mio piano? Ah ecco io ho intenzione di bucare la recinzione Eh ragazzi però c'è un problema io ho paura perchè quando vado di giorno tutti mi vengono a... mi attaccano Prendiamolo anzi no io volevo... ecco Uh ci sarebbe il vetro però... Bene cioè lasciamolo stare Ok ragazzi ma comunque allora il nostro piano allora Suggeritemi cosa... come posso... come posso fuggire senza farmi sparare perchè allora vi spiego il mio piano Io pian piano sto tagliando... sto tagliando... Intanto sto rompendo un po' il muro perchè... E perchè voglio mettere in un posto permanente tutti i miei oggetti illegali E quindi sarebbe molto più utile... questo è il... il coso... il... avete capito? Ok andiamo a prendere altre forchette Ma comunque ragazzi... eh dato che la serie vi piace supportatemi la serie con un bel like Perchè... perchè questa... questa serie vale veramente tanto e spero che... che continuo a... spero che i miei video continuino a piacervi Ok intanto continuiamo a scavare Dobbiamo prima o poi procurarci un poster Ok Ecco... eh abbiamo fatto un buco Ok... eh... dobbiamo trompare il moto per... eh... ecco intanto mettiamo tutti lì tutti i nostri oggetti illegali Quindi... la tuta... ok... no non possiamo coprirla da nazione io volevo... eh... volevi... ma non si può... cavolo... Ok... intanto lasciamo lì... intanto la tuta... la posso... prendere quando... voglio... Sì... Ah... Ah... Tanto è libero! Ottimo! Ma perchè... lui ci odia? Dai... ti porto a pranzo... Ok... Mi prendo questo... Perché non si sa mai potremmo farci un coltello? Ah, cavolo, io volevo le forchette, anzi i coltelli. Stiamo togliendo tutti dal loro banco. Beh, è il momento di andare al lavoro. Dato che è sempre la solita cosa, tagliamo e ci rivediamo lì. Ok ragazzi, ho appena... adesso dobbiamo andare a fare ginnastica. Ho appena finito, no, dai, dai, sforziamoci. Come si fanno? Ok. Dai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ne faccio almeno... No, dai, smettiamoci perché sono stanco. No, dai, ma perché mi picchiate? Lo spago? Ah, ma sono schifezze. Oh, lascia me lo dì. Ok. Accettiamo un po' di lavori perché più avanti li risolveremo così guadagniamo un po' di money, un po' di bille e denaro. Ok, basta. Basta, abbiamo già fatto abbastanza dolce. Siamo puzzolenti. Ok, controlliamo. Ok, allora, la mia idea è fare un secondo buco. Ma io credo che questo piano fallirà. Beh, intanto facciamoci un giro. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Periodo di libero. Oh, ma mi lasci stare? È stronzo. Io che cos'è? Prendiamo il secondo coso. Prendiamo anche dei cucchiai perché non si sa mai. Magari potremmo fare un tunnel. Un secondo piano. Oh, capperi. Dannazione, che cavolo. Hanno scoperto il mio piano, cavolo. Mi hanno fregato tutto. Mi hanno fregato tutto. Aspetta. Forse è nel water. Anche il buco. L'operazione buco in terra è stata annullata. Ok, ragazzi. Io faccio schifo a questo gioco. Per questo mi dovete aiutare voi. E perché ho picchiato Hake? Dobbiamo andare a colazione. Abbiamo distratto le guardie. Abbiamo distratto le guardie. Quinto. Ragazzi, tagliamo. E ci rivediamo. Alla prossima scena. Ok ragazzi Praticamente Adesso dovrebbe essere pranzo Prendiamo un po' di coltelli Perché ho intenzione di fare un buco Un buco All'interno All'esterno Così possiamo uscire Però c'è un problema Ogni volta che mi avvicino alle sbarre Alla recensione E comincio a tagliare Mi sparano Come posso fare Vi chiedo questo consiglio Perché voi siete fantastici E adesso Periodo libero mi sembra Controlliamo nelle Controlliamo nelle nostre ceste Ok Allora A fatica Mi sono trovato Della carta Magari più avanti Possiamo farci un poster Ok Allora Abbiamo un sacco di lavori Da fare Ma li faremo più avanti Intanto Dobbiamo riprocurarci la tuta Beh ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un pollice su Mi piace Supportate la serie Se vi piace E scrivetevi in basso Nei commenti I consigli Come posso Riuscire a Riuscire a Devadere E Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao